Ben trovati nell'angolo dello sport. Nei giorni scorsi ho detto e scritto che la curva nord si era fatta sentire, che era stata ascoltata. Avevo anche detto e ricordato che la curva nord era quella che aveva salvato il Pescara dagli squali a piazza Sant'Andrea quando volevano banchettare sui resti della Pescara Calcio che era fallita e ho riconfermato ancora che la curva nord pur essendo stata zitta per tanto tempo in maniera anche un po' così sorprendente conoscendo il loro carattere critico. Ho detto anche, scritto anche, che avevo parlato con uno dei giovani che di sicuro fa parte del gruppo, insomma diciamo di quelli che si fanno ascoltare e sentire all'interno della curva che mi disse, mi aveva detto che loro stavano aspettando per non creare alibi negativi e volevano vedere proprio a che punto poteva arrivare il Presidente se era in grado di poter dare una svolta alla sua conduzione manageriale. In definitiva hanno detto quando ci siamo resi conto che non voleva capire assolutamente che aveva fatto degli errori macroscopici nel periodo estivo, allora nelle ultime due partite abbiamo fatto sentire il nostro dissenso e si sono lamentati. Però io ho fatto una chiosa proprio negli ultimissimi servizi, se vi è capitato di ascoltare o di leggere o potete eventualmente andare a ritrovarli sull'archivio di Youtube con Gianni Lussoso Sport e ho detto la curva si è fatta sentire ed è stata ascoltata. Apreti cielo, non l'avessi mai detto o scritto, il palazzo mi ha fatto sapere che il conduttore se ne frega del pensiero dei tifosi, che lui sta facendo quello che pensa di dover fare, che se ha cambiato atteggiamento in questa fase di mercato è perché lui si è reso conto che era necessario apportare delle modifiche, non perché avesse fatto degli errori, ma perché la sfortuna, perché alcune assenze, perché alcune infortuni avevano condizionato il rendimento del Pescara, per cui lui non aveva fatto errori e questo signore laureatosi da poco in scienze calcistiche ha voluto rendermi edotto attraverso un suo emissario che va avanti per la sua strada imperterrito perché è convinto di operare nel bene e per il meglio. Sostenuto dagli striscianti commenti di alcuni asserviti al suo pensiero calcistico, pensa di poter fare davvero il padrone della situazione e con i nomi che ha proposto pensa di aver accontentato la piazza. I nomi devono ricevere delle conferme, questi giocatori che vengono proposti da lui come dei grossi campioni devono ancora dimostrare sul campo di che pasta sono fatti al momento perché non si vive soltanto di nome e cognome ma di rendimenti, dopodiché se ha ragione lui ne daremo atto, se non ha ragione daremo atto lo stesso. È tutto per questa edizione, un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre da Gianni Lussoso, un pentornato e tanti cari e affettuosi auguri al regista, l'amico e collega Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.